esatto esatto ma dovete smetterla di rompermi il cazzo ci arriviamo dopo basta ho capito ma io se chiedo tu rispondi ma no ma mi devi fare andare avanti indietro ma che è ci arriviamo linearmente la sentete di frastullarmi il cazzo signori ben ritornati all'ennesima puntata di immigrati podcast oggi tocca tocca a me al salvo nazionale allora l'altra volta vi ho portato in un paese caldo questa volta dove vi porto secondo voi in un altro paese caldo infatti oggi parliamo della groenlandia no bellissimo la groenlandia la mia preferita fra tutte le quella confine col messico sì 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 quella lì quella lì sì ma una cosa scusami ma noi non potevamo detto che si chiama greenland in inglese greenland non potevamo chiamarla la landa verde sì ma dopo ci arriviamo adesso non mi rompere il cazzo ha studiato sembra che abbia studiato dobbiamo vedere se hai fatto i compiti esatto vi ho capito se hai fatto i compiti non lo so vediamo allora innanzitutto come ovviamente c'è scritto ma come li chiamereste gli abitanti della groenlandia o comunque i paesi cioè di quei paesi tutti freddi groenlandesi eschimesi eschimesi sempre sempre ma in realtà loro si offendono se li chiami schimesi no sì perché schimesi a quanto pare significa mangiatori di carne cruda oppure costruttori di racchette da neve e loro li prende a male cioè non va bene però scusa è quello che fanno ma in quale lingua significa quella cosa come in quale lingua eschimesi significa ah secondo me è la loro lingua cioè ma la loro o quella degli schimesi noi europei definiamo loro eschimesi ma è quasi un termine discregettivo è come prendere uno di giù e chiamarlo terrone lo vuoi capire l'ho detto basta l'ho detto ma tu c'hai la t word pass quindi puoi dirlo sì posso dirlo esatto cioè non puoi capire però evidente sì per tutti quanti chiunque tipo viva nelle nevi un eschimese sempre sì è un eschimese in realtà in realtà gli abitanti della groenlandia si chiamano inuit se si pronuncia così oppure il singolare c'è l'abitante inuit con la k ok bene questa è la prima cosa però allora perché tu è accennato prima al greenland cioè perché in inghilterra c'è comunque in inglese si dice greenland questo perché perché questo perché inizialmente non era ghiacciata era una terra verde e poi e questo lo dici tu è una cazzata non è vero sono pure illazioni ma come io so che tipo la più recente delle glaciazioni è avvenuta lì allora innanzitutto si pensa che tantissimi anni fa non fosse ghiacciata ma tantissimi anni fa però il nome greenland deriva da uno scammatore infatti qual è il titolo ti ho scammato nel 982 ok un navegatore normanno esiliato da dalla sua patria e quindi dall'islanda viene ok decide di andare in groenlandia ok ok decide andare in groenlandia si fa i suoi tre anni di esilio ok perché aveva fatto aveva commesso insomma un omicidio non so che cazzo aveva fatto comunque torna torna e convince gli islandesi sul fatto che in groenlandia sia tutto bello verde insomma per convincere di andare là quindi quello era uno scammatore il primo il primo scammatore la prima fake news della storia la prima fake news perché vuoi portarli là ma che ne so io per fargli passare quello che ha passato lui non lo so comunque questo cosa si è fatto il suo esilio dopo è tornato e ha detto raga lì è bellissimo tutto verde amma mia più gente in realtà li ha truffati i suoi colori vantasmagorici vantasmagorici e invece li ha truffati comunque si venne esiliato perché commiso un omicidio ok quindi insomma vai a farti tuoi tre anni tuoi tre anni fuori in quell'isola che si trova a nord a nord ovest cosa succede se esili una persona quello torna e ti scamma questo succede credibile quindi c'è abbiamo capito perché greenland e poi vabbè la parentesi perché noi in italia groenlandia perché a quanto pare nella lingua islandese si dice groenland con la o quella specie di o con la barra insomma quindi noi groenlandia l'abbiamo tradotta così quella è la omuta vedi è barrata perché non si dice in ogni caso gli islandesi la chiamano groenland ma significa sempre terra verde quindi in inglese hanno detto greenland noi invece in italia l'abbiamo tradotta groenlandia groenlandia doveva chiamarla landa verde porca miseria quanto sarebbe stato figo e vabbè è andato così che ci puoi fare ma no scusa andiamo nella landa verde nella landa verde sa proprio di avventura è bellissimo ma non è avventura sì ma non in spalla piccone in mano e via alla landa verde il titolo cioè il capitolo che affronteremo adesso è si sta come i pinguini d'inverno sul ghiaccio esatto famosa poesia di foscolo bene bene perché 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 questa parentesi perché si parla un po di clima no clima sì ovviamente è tutto ghiacciato cioè l'ottanta per cento della groenlandia è ricoperto da ghiaccio ma che cazzo vuoi fare cioè c'è tutto ghiaccio infatti cioè io mi aspetto che tu a fine episodio mi convinca ad andarci a vivere ma e invece non voglio far questo voglio dire di chi è la groenlandia di chi è la groenlandia hai fatto i compiti ma che cazzo me ne frega puttiamo l'occhio sulla tua inardempienza ma io che ne so ma voi raga mi dovete far condurre non mi dovete rompere i coglioni ok accettate quello che dici ma tu hai ancora capito come cazzo funziona il format fino ad adesso non mi hai parlato di come dobbiamo immigrare lì è incredibile che ogni volta missate il format non è difficile certo 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 allora ripartiamo clima temperato parliamo di clima ok siamo emigrati siamo emigrati in groenlandia esatto e portatevele una giacca perché l'ottanta per cento è ricoperto di ghiaccio anche due di giacca ok è enorme la groenlandia è tutto ghiaccio però però nonostante il ghiaccio ci sono alcuni periodi dell'anno dove si può fare il bagno anche quindi sfatiamo sto mito tutto ghiaccio se mi dici però che l'ottanta per cento è ghiaccio l'altro venti per cento qualcosa ci sarà cosa ci sarà tipicamente a sud a sud ok si sta un po meglio a sud oppure ad ovest ovest sud insomma dipende ovviamente dipende dove lo guardi dove lo guardi esatto se dico la parte ovest dipende in ogni caso in ogni caso ci sono delle parti ovviamente che non sono ghiacciate minoranza e ci si può fare anche il bagno ci si può fare anche il bagno perché in primavera le temperature salgono anche sopra i 20 gradi a volte che lusso quindi ovviamente non è che ti fai il bagno come se fossi insomma in sardegna cioè ti metterei qualcosa di un po' più pesante però te lo fai il bagno io ti vorrei fare una domanda no no raga no sulla sardegna ma perché mi devi fare domande ma perché ma la groenlandia è uno di quei paesi in cui ci sono sei mesi di sole e sei mesi di buio sì allora studiato veramente credo che lui ti abbia dato una risposta secca senza saperla non credo andiamo ma sì davvero sì davvero sì davvero secondo me stai scendendo è impossibile giuro è impossibile sta sui poli sta sui poli e la groenlandia dov'è? cioè guarda che la capitale della groenlandia è solo a 700 km è la città più nord possibile la capitale della groenlandia è in polo nord ed è a 700 km dal polo nord cioè è la più vicina al polo nord sì ho capito ma ho capito ma questo non significa che per forza anche lì sei mesi sei mesi di giorno sei mesi di notte guarda che la groenlandia è uno di quelli più a nord più vicini al polo nord quindi mi stai dicendo che è vero? è vero infatti 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 addio intanto dipende dal fuso orario pensate che vi stia scammando pure io cioè pensate che io sia come eric in rosso sì ma perché tu scammi quello è il problema no tu sei sai il terrone ma io sono misi al biondo misi al biondo lo scammatore allora perché dico sei mesi sei mesi perché durante l'inverno il sole non sorge mai o meglio cioè non è che tutti sei mesi chiaro ci saranno magari quei tre mesi dove non sorge mai gli altri mesi invece è quasi sempre buio ah ok infatti cioè non è secco sei sei ok ok ma comunque d'inverno anche quando sorge in quei mesi in cui sorge per poco non scalda niente perché ovviamente sale appena sopra l'orizzonte e poi scende e poi torna giù quindi attento con quelle braccia alzate e non fare già no 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 scusate scusate mi dissocio e l'estate invece cosa succede giornate lunghissime da maggio a luglio il sole rimane tutto il giorno e le persone come stanno per via di questo buio e dopo ne parliamo ma tu la smetti di rompermi il cazzo ma questo è venuto a rompermi il cazzo no cioè ok comunque insomma d'estate se siete in una zona particolarmente innevata e ghiacciata ovviamente lì anche se non si raggiungono temperature elevatissime magari si toccano i 20 gradi che ne so però c'è la neve quindi vi abbronzate pesantemente vi scottate è perché la neve ovviamente rifrange tutta la luce e niente quindi si passa dai magari meno 50 gradi d'inverno ai 20 d'estate un'escursione termica assurdo assurdo io sono andato a vivere solo per il clima quindi beh non è male comunque cioè più che tipo andare lì immigrare lì semplicemente farci la vacanza ma anche solo sareste disposti sareste disposti a passare 6 mesi o di più del vostro tempo con meno 50 gradi magari sì perché no tanto io al freddo lo sopporto sempre caldo cioè esci fuori ti congeli ma ovviamente starei in casa vabbè se devi uscire a fare la spesa devi mettere 10 giacche ma basta comprare la giacca riscaldata dei s***** perché questo è un episodio sponsorizzato oggi ma sei scemo allora abbiamo appena finito il contratto con mamme creative sta cristo cretino sta cristo ma te c'hai rovinato aspetta chiediamo al nostro manager manager abbiamo la sponsor di s***** oggi no ha risposto di no quindi no era per il prossimo troppo piccolini esatto diciamo che alla prossima sei fuori per concludere con la parentesi clima ok parliamo di una delle ultime cose la cosa più bella cioè quando si pensa ai pesi nordici di solito cosa si pensa è un fenomeno l'aulola l'aulola boiare la mia potenza di vita l'aulola boiare perché lì ovviamente c'è un basso inquinamento luminoso e là si vede benissimo bellissimo questo è uno dei motivi per i quali si potrebbe andare lì magari a vivere oppure a fare una vacanza aspetta tu sai però perché si vedono le aurore boreali qual è il fenomeno il fenomeno atmosferico che te le fa vedere dimmelo tu non vorrei dire una cazzata ma dovrebbero essere le tempeste solari che arrivano proprio ai poli perché per vedere il campo magnetico girano intorno alla terra e andanno intorno ai poli le puoi vedere solo in quei posti sì esatto infatti c'è l'aulola boreale e l'aulola australe no la Piero Angela ti fa un baffo a te sì sì è vero è vero quello che ho detto sì sono le tempeste solari poi se invece vogliamo vedere sul livello mitologico lì pensano che sia la dea Freya che con i suoi cavalli cavalca il cielo in questa maniera però ritornando al discorso di Scaffo come se la vivono le persone con sei mesi di buio perché io da quello che so il tuo come si chiama il ciclo cardanico un po' si sballa che è quello che tipo regola il sonno le qualità del tuo corpo ma dovete smetterla di rompermi il cazzo ci arriviamo dopo basta ho capito ma io se chiedo tu rispondi ma no mi devi fare andare avanti indietro ma che è ci arriviamo linearmente la sentete di frastullarmi il cazzo no basta smettiamo non esageriamo raga non esageriamo ok abbiamo parlato del clima parliamo ovviamente anche della grandezza di questa isola è così immensa e quindi il titolo di questa parentesi è mo vado a trovare Zio Pino Zio Pino Zio Pino sì perché mo vado a trovare Zio Pino vallo a trovare sai quanto ci metti perché in Groenlandia sì non ci sono strade cioè no la rete stradale per un cioè per un per un isola che è sviluppata 2 milioni 166 km quadrati sapete quant'è la rete stradale appena 60 km cioè tu mi stai dicendo non ci sono strade su un'isola dove l'80% è ghiaccio non ci sono strade ma questo è gribile top ma non l'avrei mai detto top ma non fanno le strade di ghiaccio scusa sì top cazzo ma io vedevo la pubblicità dei polaretti che i pinguini avevano tutte quante discese a questo lo fanno top top però non ti devi muovere per forza in macchina ti devi muovere per forza in macchina infatti quali sono i mezzi di trasporto più utilizzati lo slettino con i cani classico voi avete altre idee? proponete altro? gli sci? le ciaspole? abbiamo detto una slitta trainata da N slettino trainato da cani da cani? è quello sicuramente lo vediamo in tutti i film esatto davvero sì voi? le ciaspole? le ciaspole esatto sono le racchette da neve le ciaspole magnetiche? quindi questi qua sciano tutto il terreno sì sì oppure un mezzo molto più comodo no? uno non è che si mette una vecchietta si mette a sciare c'è anche il gatto delle nevi c'è anche il gatto delle nevi c'è anche il gatto delle nevi e poi se devo dire a tutta c'è anche la motoslitta ecco la motoslitta cioè lì le motoslitte sono l'equivalente delle nostre macchine che bello poi altri mezzi che vi vengono in mente dai insomma abbiamo guardato dentro dentro lo stomaco oltre a navigare oltre a navigare sulla terra si può navigare anche le renne esatto bocci fuori il capo le renne le renne sì ci suggeriscono le renne le renne di Babbo Natale esatto hai ragione infatti era quello le renne di Babbo Natale grazie ospite grazie suggerimenti top no comunque ovviamente elicottero e barca niente quindi questi sono le barca vabbè ma la barca è fuori non puoi navigarci sopra no no intende barche volanti barche volanti ma di cosa c'è questo non capisce vabbè comunque sia questi sono i mezzi e ogni famiglia magari le più ambienti arrivano ad avere anche 5-6 motoslitte cioè per famiglia quanto costa una motoslitta? cioè se tu fossi 5-6 macchine sì se tu fossi nato in Groenland a questo punto avresti avuto anche tu ma io perché? sì sì salvo quanto costa una motoslitta? e che ne so vattelo a cercare e vabbè perché se ce l'hanno solo le famiglie più ambienti più di una pensate tipo ai produttori insomma di automobili fuori dal mercato ma ce l'hanno le motoslitte elettriche? può essere può essere di sicuro ce le avranno secondo me dipende quanti posti abitati ci sono poi perché è molto grande non è caro se hanno 6 mesi di buio non si muovono più secondo me no per il semplice fatto che la potenza di un motore elettrico non è come è quella di una benzina quindi non riuscirebbe tipo a camminare sulla rete non so se potrei dire cazzate però so che in ripresa è più veloce la benzina ma per accelerazione più veloce è l'elettrico è molto più coppia niente abbiamo detto delle macchine ce ne sono solo 2500 non è la coppia ho detto una cazzata comunque secondo me c'è un'altra soluzione per viaggiare ci sono gli orsi? sì ma vanno a cavalcare in orsi no 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 dico dentro lo stomaco di un orso puoi viaggiare ah può essere ti butti dentro dentro lo stomaco abbiamo parlato di cose belle ok arrivano anche per forza di cose le cose brutte Houston abbiamo un problema capitolo nuovo no sì quali sono i problemi di cui parlo? a quanto pare si ha un alto tasso di suicidi c'è molto gioco ad azzardo ci sono problemi di alcolismo e di povertà partiamo partiamo da cosa volete partire? da cosa volete partire? partiamo dai suicidi sì dai tutti quanti pensano sì esatto tutti quanti pensano che il più alto tasso di suicidi sia in gli abannese negli abanne invece a quanto pare è in Groenlandia secondo te secondo voi questi suicidi si verificano soprattutto d'inverno d'estate dato che prima mi accennavi e mi hai rotto i coglioni mi accennavi al problema dei sei mesi dei sei mesi sotto il sole tutto buio ci sono nei periodi bui la maggioranza sono nei periodi nei periodi bui secondo voi allora io da quello che sapevo molti suicidi avvenivano durante il periodo dove c'erano 24 ore di buio poi è un'altra cosa se le persone non dormono con la luce quindi si deprimono però io so che la maggioranza dei suicidi avviene durante il periodo di buio perché 24 ore al buio che hanno paura del buio quindi si ammazza no 24 ore al buio una persona si deprime però aspetta dipende quando abbiamo detto che è buio d'inverno sì ovviamente non sono sei mesi sei mesi netti un po' di meno però ci sono magari quei tre mesi di buio totale quei tre mesi di sole totale ah ok più o meno e poi le altre giornate pressoché sono quasi tutte buie magari compare il sole per un'ora proprio lì all'orizzonte allora no basta secondo me sempre per quella cosa del ciclo cardanico può essere che sia l'estate che ti sballa tutta la routine perché magari tu finisci a fine giornata e fuori non è buio non ti senti stanco ma la giornata sembra ancora giornata cioè siamo ancora mattinata quindi non capisci un cazzo muori attenzione professor Musta lei ha ragione lei ha ragione e lei ha anche letto ci sono arrivato già da prima col ciclo cardanico va bene ciò che esce dalla bocca di scaffo sono cazzate cazzatine cazzatine spicciole non è una cazzata invece Musta dice cose sensate bravo bravo questa è una costanza no non tu tu sì dovrebbe essere così molte persone hanno questo problema soprattutto nei paesi in cui ci sono tanti mesi di luce e la mancanza di sonno ti porta cioè è una probabile causa del tuo suicidio sì esatto però scusa pensa a lavorare tutti i giorni per sei mesi al buio però almeno riesci a dormire sì lo so anche quello è stressante però conta che comunque come esseri umani noi siamo molto collegati al sole soprattutto no no ma sicuramente biologicamente parlando noi siamo molto attaccati al sole ai suoi cicli a come funziona hai mai notato il sole puttana questo è per pochi esatto per pochi eletti quindi appunto il fatto che tu non veda il sole o magari lo veda costantemente quello ti turba parecchio adesso arrivare al suicidio magari secondo me ovviamente è una delle cause non può essere un'unica ovvio causa in ogni caso la popolazione povera è maggiore della popolazione benestante non ricca benestante questo ovviamente è un bel problemino e quindi immaginiamo di emigrare in Groenlandia magari di ritrovarci fra quella parte di popolazione povera che succede che succede a quanto pare lo stato ti viene in incontro ti aiuta per sei mesi per un periodo massimo di sei mesi ti offre una casa una di quelle case popolari insomma che hanno lì e ti cerca un lavoro per quanto possibile e ti passa i soldi per le spese essenziali il reddito di cittadinanza della Groenlandia esatto bravo Scaffo esatto ma poi che lavoro ti cercano nel senso pesca caccia ti mandano tipo nei pescarecci a pescare ovviamente l'economia della Groenlandia si basa tutto sulla pesca e sulla caccia prevalentemente sì immagino di quelle tribelle che fanno i buchi allora andiamo avanti problemi di alcolismo ultimo ultimo dei insomma problemi più gravi del popolo a quanto pare questo problema è sempre più frequente perché? perché c'è una rapida modernizzazione e quindi ovviamente la gente viene sradicata dalle proprie abitudini dalle proprie tradizioni magari metti la famiglia che era abituata tutti questi inuit che si trovavano nella casetta di legno a cenare insieme eccetera poi dopo un anno in l'arco di un anno arriva lo smartphone tutti quanti sullo smartphone i figli o arriva il Jack Daniel e subito cioè nel senso è quello perché lì la modernizzazione dovrebbe essere più rapida che in altri posti perché si vede che hanno avuto accesso a determinate tecnologie un po' in ritardo rispetto a noi quindi arriva tutto d'un botto mettiamo che sia così però perché dovresti metterti perché dovresti alcolizzarti perché magari uno dice oh che merda allora dipende come uno la prende magari la popolazione più anziana la prende male perché non guarda di buon occhio la tecnologia dato che erano abituati a pescare con la canna cioè erano abituati a fare cose molto più manuali e insomma contadine e quindi non la prendono molto bene ho capito non è che devono forza usare una smartphone però io non sto dicendo che è una brutta cosa la modernizzazione anzi sono stra però la modernizzazione però a quanto pare molta gente lì la prende male ho capito io non capisco il motivo perché c'è anche gli anziani italiani magari è stato meno rapido un attimo oltre a questo problema c'è anche un altro problema molto grave che in realtà stiamo affrontando tutti il cambiamento climatico questo è un problema comune a tutti ma si fa sentire soprattutto lì perché lì ovviamente vai a distruggere magari la fauna ok la flora del posto flora per quanto ce ne possa essere comunque magari non trovi più foche non trovi più salmoni e la tua attività si basa sulla pesca esatto questo è un grave problema quindi è normale che questo mi sembra già più sensato beh anche la modernizzazione ha la sua importanza comunque noi come paese abbiamo avuto tutto il nostro tempo è graduale abbiamo avuto il tempo per abituarci a interiorizzare questa tecnologia perché noi eravamo dentro lo sviluppo tecnologico eravamo noi che promuovevamo lo sviluppo tecnologico ma se ci pensate anche noi comunque abbiamo affrontato secondo me dei problemi dovuti alla modernizzazione tuttora ne affrontiamo c'è la depressione secondo me sta aumentando a causa magari di tutti i nuovi dispositivi quali smartphone computer il fatto che sei constantemente connesso social eccetera quindi anche noi non è che l'abbiamo presa benissimo in generale però io l'alcolismo riguardo la modernizzazione non è che l'abbia capito tanto sono più accessibili adesso sì no ho capito però non ne vedo il senso ma neanche io però dipende non è che è arrivata la modernità via alcol e mi ubriaco magari uno è un tipo che era abituato a bere per riscaldarsi adesso col fatto che ci sono più alcolici si è dato ancora di più all'alcol perché era molto freddo sì magari modernizzazione anche magari appunto si parla magari di spedizioni più rapide ti arrivano più prodotti in commercio magari quella bottiglia è tutto è un grande contenitore quella bottiglia di scotch di whisky che hai in casa che magari consumavi in sei mesi adesso la puoi consumare in un mese perché è più è sempre più disponibile magari tu avevi già problemi di alcolismo e così li accentui ma poi oltre a questo insomma è dovuto anche in parte alle tecnologie anche in parte magari ai social che ne sai anche magari in parte soprattutto il cambiamento climatico insomma un insieme di cose comunque top cambiamento climatico e modernizzazione ultimo capitolo che vedremo oggi devo mettermi in forma e stare sano perché? perché parliamo di alimentazione un tempo la popolazione groenlandese era molto sana perché mangiava soprattutto pesce crudo e tra l'altro solo pesce crudo quindi non mangiavano sì ma non mangiavano frutta, verdura, zuccheri e non c'erano hanno inventato prima loro sashimi giapponesi andavano giù di sashimi però voi potete dire dove le prendono le vitamine dal pesce crudo perché poi mangiano anche un po' di cose sai un po' strano fegato di pesce vabbè la pelle della balena il fegato del caribù tutti i mangiati crudi ovviamente quindi ovviamente cibi molto spiziosi niente ovviamente invece con la globalizzazione sono arrivati in commercio un sacco di prodotti nuovi quindi adesso la popolazione ha un po' più di problemi ha iniziato a mangiare più zuccheri eccetera eccetera e sono aumentate un po' le patologie però prima stavano benissimo sono aumentate le patologie però questo non ci deve preoccupare perché? perché la sanità in linea di massima è molto buona ok non ci sono tantissimi ospedali ce ne sono diciamo due no sono pochi nelle città più grandi però il trasporto avviene tramite elicottero quindi abbastanza veloce sono elicotteri fra l'altro dei militari russi riconvertiti per l'esigenza quindi vi vedete questo elicottero che arriva vicino a casa vostra che tanto di sicuro può atterrare non ci sta un cazzo quindi a terra vi prende il trancio al tetto della casa però sì comunque a livello sanitario sono messi abbastanza bene e fra l'altro la sanità lì è gratuita come in Italia quindi cosa fareste insomma cioè innanzitutto continuereste a stare sulla vecchia linea mangiamo pesce crudo vi piacerebbe mangiare pesce crudo tutti i giorni la pelle di balena come la prendereste tutti i giorni no tutti i giorni no allora se gli inuit sono stati i primi che vedendo appunto i cibi moderni quelli un po' più processati si sono un po' convertiti anche io mi convertirei inevitabilmente andrete lì e vi convertirete esatto detto questo tiriamo un attimo le somme le somme tiriamo le somme abbiamo visto cose belle abbiamo visto cose brutte abbiamo visto com'è la natura insomma quella che c'è come sono organizzati i trasporti tutto il resto e ora che facciamo emigriamo o no vai Scaffo dici la tua che tu sei Scaffo io sono Scaffo ok allora guardando i pro e i contro per me resta comunque un paese interessante però non saprei dirti se ci andrei a vivere farei prima una prova andandoci in vacanza nel periodo di sole 24 ore e nel periodo di buio notte 24 ore cioè quindi giorno poi lì una volta che mi sono fatto una settimana col sole una volta che mi sono fatto la settimana col buio posso decidere ma perché ti stai scopando il microfono? perché faccio 24 ore allora fa smr mentre si scopa facciamo 24 ore di buio 24 ore di sole poi dopo che mi sono fatto queste settimane qua posso anche decidere ma finché non la vivo non posso dirti se ci andrei a vivere perché sono informazioni molto generiche quelle che hai dato no ma ti ho detto quante macchine ci hanno non me li prego un cazzo due macchine io sono soddisfatto della sua risposta va bene dai Gibo dici la tua tu emigreresti in quel paese certo andresti a via tra le nevi certo che no perché secondo me ci sono posti con la neve che sono un po' più civilizzati di quello perché lui si ammala poi quello è il problema ah sì sì no comunque è vero Gibo è così fragile che secondo me la pelle si staccherebbe da su Gibo è così delicato Gibo se non si mette la cremina è un casino raga questo ragazzo mi muore poi la cremina e l'elicottero non arriva in tempo sta morendo si confonde col pannello dietro pronto pronto non ho messo la cremina venite a prendervi Gibo non avrebbe problemi di alcolismo avrebbe problemi di mancanza di creme no ma poi raga sei mesi senza solo io crepo è vero Gibo ha bisogno di vitamina D perché le ossa di Gibo anche quelle vabbè la vitamina D te la prendi mangiando l'olio e il fegato di pesce ma guarda che famoso è l'olio di merluzzo è famoso è boh no comunque la vitamina C invece col fegato di caribura è la pelle di balè mi sembra un bel paese cioè se ci fosse nel senso se il virus si diffondesse in tutto il mondo ancora di più andrei in Grollandia ma che vuoi tu mi salverei è incredibile quando tu sia egoista ma lo stesso tempo comunista allo stesso tempo mamma mia mi piace mi piace mi piace due cose che vanno abbracciando questo mi piace mi piace top 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 allora per i bravi per le persone che ci seguono fino alla fine della puntata abbiamo l'angolo degli aneddoti il primo sarà di Salvatore prego l'altra volta vi avevo detto che dovevo dirvi una cosa però è passata una settimana e me la sto dimenticata quindi niente aneddoto per oggi quindi cosa diciamo questo è un errore non è un aneddoto comunque esatto per dire non è un aneddoto però va bene a noi va bene così perché a noi la qualità c'è rotto c'è rotto il cazzo non è un aneddoto